Come si studiano a Trieste? Le letterature, la storia dell'arte, le scienze dell'antichità, le lingue straniere, gli studi sullo spettacolo e sulla comunicazione, gli studi storici, gli studi filosofici. Ciò che si studia, si studia in un luogo. Il cosiddetto polo umanistico dell'Università di Trieste è collocato in una sede separata rispetto al campus centrale di Piazzale Europa. Quest'area in cui si collocano gli edifici che costituiscono il polo umanistico è un'area molto bella della città. Un'area prospicente il mare, prossima a luoghi di importanza storica, vicini alla Piazza Unità e in realtà non lontani nemmeno dalla stazione centrale che dista dal polo umanistico circa 15-20 minuti a piedi. A questa felicità della posizione nel quadro della città corrisponde un benessere che viene dalla vita e dal lavoro nei luoghi in cui si svolgono le attività del Dipartimento di Studi Umanistici. Si tratta di quattro palazzi d'epoca, tutti ristrutturati molto recentemente e dotati di aule molto funzionali per la didattica, di spazi per lo studio e per lo scambio sociale, di aule attrezzate tecnologicamente con molte postazioni e anche e soprattutto di una biblioteca che ospita un patrimonio librario di primordine, possiamo senz'altro dire il più importante della regione per quanto riguarda questo tipo di studi. Un altro punto di forza del nostro Dipartimento per quanto riguarda la proposta che si fa agli studenti è la sua internazionalità. Posso in questo contesto dire che la nostra città, come ben si sa, è una città cosmopolita, ha forte vocazione internazionale e che in generale l'Università di Trieste è allineata a questa storia. Il nostro Dipartimento risponde a questa tradizione in particolare mettendo in essere una nutrita serie di accordi Erasmus con 54 sedi europee, di cui 38 in rapporto con l'area che io in questo momento sto descrivendo. Oltre a questi accordi Erasmus ci sono convenzioni con sedi universitarie extraeuropee in Libano, in Guatemala, in Paraguay e anche con sedi universitarie di paesi europei ma che non appartengono all'Unione Europea come la Svizzera. Un altro punto di forza del nostro Dipartimento è la sua multidisciplinarità. Il Dipartimento dei Studi Umanistici è l'esito di una fusione tra due facoltà, due facoltà molto consistenti, ossia la facoltà di Lettere e Filosofia e la facoltà di Scienze della Formazione. Questa fusione ha avuto luogo nel 2012 e ha prodotto la costituzione di un macro dipartimento nel quale sono rappresentati più di 50 settori scientifico-disciplinari. Questa varietà non è però andata a danno dell'organicità della offerta formativa. Ci si è subito preoccupati di cercare di contemperare questi due valori, il valore multidisciplinare e il valore dell'efficacia e coerenza del progetto formativo. Questa coerenza del progetto formativo si vede soprattutto nel fatto che la struttura tripartita della filiera del terzo livello, costituita da primo ciclo, corso di l'ora triennale, secondo ciclo, corso di l'ora magistrale, e poi lo sbocco in un perfezionamento di livello dottorale o attraverso corso di specializzazione o attraverso master di secondo livello e assicurata dal progetto formativo messo in opera dal nostro dipartimento in dialogo, in alcuni casi, con l'Università di Udine e in due casi anche con l'Università di Venezia. Ma vediamo più nel dettaglio come il nostro dipartimento risponde a questa struttura della offerta formativa dell'Università italiana. In primo luogo, come vedete, ci sono cinque corsi di laurea triennale, discipline storiche e filosofiche, lettere antiche e moderne, arti e comunicazione, lingue e letture straniere, servizio sociale, scienze dell'educazione. Poi c'è anche, nella nostra offerta, un corso di laurea triennale inter-ateneo. DAMS è la sigla di discipline dell'audiovisivo, dei media e dello spettacolo. I corsi del DAMS, che sono organizzati in cooperazione tra l'Università di Udine, che è sua sede amministrativa, e l'Università di Trieste, si tengono a Gorizia. Ci sono poi corsi di laurea magistrale, amministrati esclusivamente a Trieste, lingue, letteratura straniere e turismo culturale, servizio sociale, politiche sociali e programmazione e gestione dei servizi, e poi ben quattro corsi di laurea magistrale inter-ateneo in convenzione con Udine, in filosofia, in italianistica, archeologia e cultura dell'antichità, studi storici del Medioevo all'età contemporanea. Dunque, questi sono i primi due cicli che costituiscono il percorso formativo di livello universitario che eventualmente precede questa fase. La filiera si completa con i dottorati di ricerca, in studi linguistici e letterari, in convenzione con l'Università di Udine, in scienze dell'antichità, in convenzione, come anticipavo prima, anche con l'Università Ca' Foscari di Venezia, oltre che con l'Università di Udine, poi in storia delle società, delle istituzioni e del pensiero, dal Medioevo all'età contemporanea, in convenzione con Udine, e infine esiste anche la possibilità di specializzarsi in questa scuola gloriosa di beni culturali e archeologici, che opera in convenzione con l'Università Ca' Foscari di Venezia e con l'Università di Udine, ma è amministrata a Trieste. A questa presentazione si associeranno due PowerPoint che vi descriveranno in modo più partito e più complessivo le offerte dei tre corsi di laurea triennale, discipline storiche e filosofiche, lettere antiche e moderne, arti e comunicazione, lingue e letterature straniere, e rispettivamente DAMS, cioè quel corso di laurea triennale, come vi dicevo prima, è interateneo, in convenzione tra Trieste e Udine. I valori di cui vi ho parlato poco fa, in particolare i valori che si associano alla logistica, che si associano all'internazionalità, che si associano alla multidisciplinarità e che si associano infine alla organicità e completezza del percorso formativo, hanno fatto sì che in questi anni, da quando il Dipartimento di Studi Umanistici esiste, gli studenti di scuola superiore hanno risposto in modo massiccio alla nostra offerta. Anche quest'anno abbiamo avuto un altissimo numero di immatricolati, 616 per la precisione, e complessivamente sono iscritti al nostro Dipartimento tra 1.500 e 2.000 studenti. Gli studenti sono, per tutti noi docenti, personale tecnico-manistrativo del Dipartimento, la prima ricchezza del nostro ambiente. anche per questo sono impaziente di incontrarvi personalmente quando ci rivedremo auspicabilmente all'edizione vera e propria di Porte Aperte il 27 di luglio. Grazie di avermi ascoltato.